Ciao ragazzi, io sono Paolo e benvenuti in questo nuovo canale dedicato alle video recensioni e ad opinioni su tutto ciò che riguarda la tecnologia. Oggi vediamo cos'è Hackintosh. Hackintosh è un progetto di hacking che permette di installare appunto il sistema operativo Mac su qualsiasi computer. E questo è possibile dal 2005, da quando Apple ha cominciato ad utilizzare all'interno dei suoi computer i processori Intel, processori che sono comunemente usati nel mercato e sono disponibili a tutti. Quindi se noi abbiamo dei componenti del computer che si assomigliano molto e si avvicinano molto a quelli che Apple utilizza nei suoi computer, riusciamo al giorno d'oggi ad installare il sistema operativo Mac. Ovviamente se installiamo un software di cui non abbiamo comprato la licenza, questo non è legale. Ma allora perché andare a fare tutto ciò? Beh, perché i Mac veri e propri partono dal costo di circa 500€ per i Mac Mini, che sono quelle scatolette molto piccole, però sono consigliate solo a chi si sta avvicinando al mondo Apple e vuole sperimentare, vuole provare questo nuovo sistema operativo. E poi si va a salire con i MacBook Air a partire da circa 900€ e poi a salire con i MacBook Pro, iMac e i Mac Pro, che configurabili, arrivano addirittura a costare 3, 4, 5 mila euro. Mentre l'equivalente Hackintosh, detto appunto con questo nome, può costare circa la metà. Ovvero se noi compriamo i componenti, ce li assembliamo e installiamo Macintosh per conto nostro, questo verrà a costare moltissimo meno. Inoltre, molti sostengono che le prestazioni di un Hackintosh sono equivalenti ai veri e propri Macintosh o addirittura c'è chi sostiene che le prestazioni siano superiori dei reali Macintosh. Quindi se vi ho fatto venire voglia di provare a costruirvi anche a voi un vostro Hackintosh, non dovete fare altro che andare sul sito TonyMacX86, dove ogni mese esce una lista aggiornata di tutte le nuove componenti che sono maggiormente compatibili con il sistema operativo di casa Apple. Una volta che avete comprato e assemblato componenti che sono compatibili con Mac, dovrete andare ad installare il sistema operativo vero e proprio. Ci sono due strade. La prima, se un vostro amico ha già un computer Apple, potrete chiedergli di scaricare l'ultima versione del sistema operativo gratuitamente ed andare a installarla nel vostro Hackintosh. L'altra è quella di scaricare una versione modificata da internet e installarla. La differenza tra queste due versioni è che una, quella pura, quella originale, è meno compatibile ovviamente con una vasta gamma di componenti, mentre le versioni modificate sono state create per essere compatibili anche con hardware che non è ufficialmente supportato dalla casa di copertino. Al termine dell'installazione del sistema operativo dovrete però andare a risolvere molti piccoli problemini che potrebbero esserci per l'incompatibilità generalmente con la scheda diretta, la scheda audio, la scheda video. Per questo l'installazione è consigliata a solo chi è in grado di muoversi nell'ambito informatico. Spero di avervi chiarito cos'è Hackintosh e il perché di installare un Hackintosh. Se avete domande iscrivetevi pure nei commenti. Visto che questo è il primo video vi consiglio di iscrivervi al canale perché arriveranno moltissimi nuovi video. Ciao ciao! Ciao!